Il governo sta decidendo come affrontare la questione IMU, la Lega che cosa chiede? Innanzitutto vorremmo capire quali sono i tempi perché qui ci pare che giorno dopo giorno slitti il decreto definitivo perché da quanto pare l'IMU prima a casa a giugno non si pagherà, serve il decreto per farla slittare e stamattina si diceva che anche qualcosa su altre realtà come gli immobili industriali o i terreni agricoli potrebbe slittare però slittare non vuol dire che non si paga, magari poi il governo decide che a settembre si fa una rata unica per andare a raccogliere quello che si sarebbe dovuto raccogliere a giugno. Il problema è capire, soprattutto sull'IMU prima a casa che su quello c'è un impegno reale, è capire dove vogliono andare a prendere le risorse sulla parte invece delle questioni delle aree industriali, dei negozi, del commercio eccetera lì c'è il rischio che si vada a pagare di più rispetto a quanto si è pagato l'anno scorso. Bisogna capire perché se questo fosse vero saremmo di fronte ad un aggravio pesante per i contribuenti. La Lega ha chiesto che le aziende agricole vengano dispensate da questo pagamento. L'azienda agricole è la prima casa e anche la questione che riguarda le realtà industriali e commerciali che non ci sia quell'aggravio che già c'è stato l'anno scorso e che quest'anno pare ci possa essere ancora di più perché le reindite catastali c'è il rischio che aumentino ancora. Occorre capire perché qui le realtà produttive non hanno queste risorse da dare così facilmente per il pagamento del limo. Grazie.